Le tradizioni non bisogna mai scordare, sono patrimonio della nostra società. Passano gli anni, si rinnovano i ricordi, quando è la festa di paesi di città. Carissimi amici di Musica e Tradizioni, buon pomeriggio a tutti voi e ben ritornati a Sant'Ambrogio di Torino in compagnia di Roberta, archeologa che solo lei potrà parlarci nei dettagli di questo luogo incantato, il luogo più antico del paese dove sorgeva un tempo il castello. Questi sono i resti del castello ad oggi che ospitano un sacco di altre cose che scopriremo proprio grazie a te. Allora, raccontaci un po' di queste mura esterne che ci aprono a una meraviglia che si estende poi anche dentro e sui terrazzi. Allora, il castello, diciamo, abbiamo delle informazioni dalle fonti. Le prime informazioni sono databili al 1176 in cui si hanno degli editti che parlano di alcuni degli edifici pubblici presenti a Sant'Ambrogio, tra cui appunto il castrum. L'edificazione del castello è databile però nella struttura complessiva e finale al XIII secolo. Quello che noi vediamo adesso è soltanto una piccola parte di quello che era il complesso originario del castrum e si tratta nel dettaglio della parte residenziale. Tutto intorno noi abbiamo una serie di edifici che facevano parte della piazza d'arme. La struttura è stata ristrutturata nei primi anni 2000 e ospita attualmente una struttura ricettiva con ristorante e bed and breakfast e quello che noi vediamo è il fronte di accesso sul lato ovest della struttura residenziale. Si nota benissimo l'antica merlatura, nella parte più alta abbiamo una ristrutturazione recente, mentre osserviamo direttamente sopra il portale d'ingresso vediamo la bertesca d'angolo e la coditoia piombante. Entrambe le strutture sono in mattoni, questo è un dato molto interessante perché fino al 1200-1300 veniva utilizzato come materiale da costruzione solo ed esclusivamente la pietra. Il mattone veniva utilizzato invece per elementi decorativi e lo vedremo su un lato del castello e gli stessi elementi decorativi si ritrovano sulle mura e nella torre comunale. Si chiamano appunto piattabande, sono mattoni, posti di taglio e coltello. Elementi caratteristici diciamo sono quella stilatura che si vede c'è una malta che ricopre i filari di mura, di pietre e sono stilati, cioè vuol dire che c'è questa leggera impressione fatta con uno stilo a separare un filare dal successivo. Mentre questi due elementi sono stati ricostruiti per volere di Pietro III de Fongeret, il quale aveva accolto le truppe di Filippo d'Acaia che nel 1363 erano venute nel borgo di Sant'Ambrogio e le avevano distrutto completamente. Pietro III non era un abate particolarmente amato, proprio per questo nel 1368 ha fatto ricostruire le mura e parti del castello e questi sono i due elementi di quel periodo che appunto sono indicativi della ristrutturazione. Bene, allora se noi ci avviamo invece all'interno di queste mura potremmo andare a scoprire ancora ciò che resta di questa storia importante che tu ci hai appena raccontato. Quindi ti seguo così mi fai da Cicerone in questo viaggio di scoperta proprio oltre le mura del castello. Che bella la vista da quassù, insomma suggestiva e un'ottima visuale anche ai tempi, pensiamo di tornare indietro nel tempo e a quello che serviva questo edificio, questa struttura quindi di protezione e di guardia. Infatti, proprio questo è il punto essenziale, la funzione del castello era una funzione strategica e si trova infatti a Monte dell'Abitato e ha una perfetta visuale sulla valle. Se noi guardiamo verso destra infatti vedremo il castello di Avigliana e poi a 180 gradi la visuale arrivava fino a Condove, infatti non dobbiamo immaginare che ci fosse in antico tutto questo manto boschivo a coprire la visuale. Alle vostre spalle potete vedere appunto la merlatura con il camminamento di ronda e un altro dettaglio sicuramente molto importante è il campanile che è un campanile romanico ma è molto particolare perché la sua cuspide è una cuspide che rappresenta in altezza i tre quarti della struttura totale dell'edificio. Se infatti si guarda da via Umberto oppure ai piedi della torre l'occhio viene catturato immediatamente da questa altezza della cuspide e viene accompagnato direttamente al vero pulcro del borgo di Sant'Ambrogio che nient'altro era se non l'altra medaglia della Sacra di San Michele. Ciò che era alto spirituale veniva esplitato sulla vetta del Pirchiriano all'interno del monastero ed era sacro mentre tutto ciò che era amministrativo, burocratico o giuridico veniva esplitato qui a Sant'Ambrogio e abbiamo parlato appunto della torre comunale, del castello e altri edifici che dovevano svolgere funzioni pubbliche e quindi la Sacra e Sant'Ambrogio sono più o meno la stessa struttura. Sono come fratelli gemelli possiamo definirli quasi così. Compiti diversi però che si compensavano in simbiosi diciamo un con l'altro. Questo percorso che noi abbiamo fatto insieme a te in questa giornata per dare la possibilità alle persone di vedere qualcosa di più di Sant'Ambrogio lo si può fare in visite immagino guidate aperte a tutti. Esatto, allora sì io da anni collaboro con il comune di Sant'Ambrogio e organizzo delle visite guidate circa una al mese e accompagno i visitatori al castello, alla torre, nelle torri perché saliamo su al campanile, alla torre comunale e poi anche all'interno delle corti. Vedremo anche le antiche mura e le fontane, insomma un sunto di quello che abbiamo presentato ma che dura anche un po' di più in alcuni casi anche tre ore. Ed è giusto che sia così perché molti, io mi comprendo in questi molti, insomma siamo abituati a vedere un po' Sant'Ambrogio come il forziere di quello che poi è la Sacra di San Michele, un po' l'involucro della Sacra di San Michele. In realtà stiamo scoprendo in questi giorni che c'è molto di più da vedere proprio qui ai piedi prima di salire in alto verso la Sacra. Quindi ti ringrazio e proseguiamo il nostro percorso insieme. Ehi monsieur monsieur, volete salire sulla Sacra a dorso di mulo e scendere su una slitta di legno piena di cuscini? Una lira e mezza. E' un po' troppo, no? Fuma due lire. E' un po' troppo. Una lira e mezza? Ma fai fai? Dammi la mano. Allora, sei arrivato con il treno? Il viaggio sta in comune? Mezz'oretta, mezz'oretta di treno. E il treno è una gran comodità per i turisti per salire sulla Sacra. Poi la stazione più vicina per la Sacra è proprio quella di Sant'Ambrogio di Torino. Anduma e multumas. L'ho riportato indietro dai tempi antichi perché lui non è reale. C'è proprio un personaggio dei tempi, lui e tutta la sua ciurma. Ovviamente. Ovviamente. Vi ho pescato qua tra i boschi di Sant'Ambrogio. Ma che cosa state facendo? Dove siamo? Raccontami un po' di questo luogo. Allora, siamo all'inizio della mulattiera medievale che sale alla Sacra di San Michele. Percorsa da santi, da poeti, da papi, da personaggi storici, San Francesco d'Assisi durante i suoi viaggi, Carlo Borromeo, i Savoia e turisti. Turisti che da un'epoca imprecisata fino agli anni 30, anni 40 del 1900 salivano addosso di mulo e scendevano sulle lese delle grandi slitte di legno con un cestone in vimini imbottito di cuscini. I clienti da Narosi pagavano il servizio. In salita e in discesa. Una cosa importante per il paese è che si estinse purtroppo intorno agli anni 30, anni 40 del 1900, questa data è certa, quando venne costruita la strada carrozzabile da Avigliana che portava poi le carrozze. Ancora adesso i turisti preferiscono la stazione ferroviaria di Sant'Ambrogio perché è qua a poche centinaia di metri. In questo modo possono salire anche con la via ferrata dove c'è il laghetto dei Camosci. Certo. Senti però sono curiosa ma allora i signorotti pagavano un dazio per farsi trasportare? Non un dazio, una parcella. C'erano tre ditte che a Sant'Ambrogio lavoravano per questo servizio turistico. Ma tutto l'anno, cioè io mi immagino qui quando c'è neve o gelo, ghiaccio, cioè come si facevano? Chiediamo loro. Signori sareste venuti a gennaio a visitare la Sacra in queste condizioni? E la risposta domanda e offerta. Allora, bene, bene. Allora, quindi questa è una delle tante vie in salita verso la Sacra di San Michele, una delle più storiche delle tante. Quanto ci vuole da qui a piedi arrivare su? Allora, un'ora per quelli atletici, un'ora e un quarto, un'ora e venti per diciamo un tempo medio, un'ora e mezza, un'ora e trentacinque per quelli che se la prendono più incomoda. Abbiamo già dato tanti orari. Una notizia importante è tradizione che alla fine dell'anno scolastico la gita in prima elementare, quindi a sei anni, vadano sulla Sacra. Quindi è una gita per tutta la famiglia dai cinque a sei anni in su. Bene, senti, guarda un po' a caso. Qui, che immagini ci sono? Noi ci siamo ispirati da quelle... Siete usciti da lì, praticamente. Ci siamo ispirati da quelle cartoline, fotografie d'epoca, dove si vede chiaramente l'abbigliamento, si vedono chiaramente queste slitte con questi cestoni di vimini imbottiti di cuscini che permettevano una discesa agevole. E chi saliva con questi scarponi attrezzati? Sì, i miei non sono chiodati, ma come vedete non li ho lucidati per l'occasione. Esatto, proprio solo per l'occasione. Assolutamente, perché rimanessero in tema. Anche l'abbigliamento l'hai trasportato dall'epoca antica. L'ho tirato fuori dai miei armadi personali. Ma lui si vede che è un teatrante, quindi ci prende un po', ci cogli in inganno su alcune cose. Bene, allora da questo lato, invece, una storia importante legata alla Dama Bianca. Il castello di Sant'Ambrogio, il castello baziale, non ci fu mai un signorotto. Qui veniva l'abate della Sacra ad amministrare la giustizia, amministrava il potere spirituale, ma anche quello terreno, quindi a incassare, a fare da tribunale, eccetera. Soprattutto quello terreno. Soprattutto. In quella torretta che vedete, quella torretta in mattoni rossi, si racconta, è l'ultima apparizione comparsa sul giornale La Stampa, c'è un articolo di risalente agli anni settanta, che fu ai piedi di questa croce, qui c'è una via crucis, quindi anche importante per i fedeli salire alla Sacra, ci fu un'apparizione di due spiriti. E questi due spiriti sono attribuibili alla Dama Bianca e al suo amato. Si racconta che, in periodo mediovale, la Dama, che viveva in questo castello, fosse innamorata di un popolano, di un paesano. Il castellano, ovviamente, questo lo mal digeriva. Senza dirgli nulla, il castellano lo fece torturare, lo fece uccidere e gli cucinò il cuore. Qualcuno dice trifolato, impanato. Alla Dama Bianca? Alla Dama Bianca. Non scherzare, mamma mia. La Dama Bianca mangiò questo piatto sopraffino. Dopo che lo mangiò, il castellano gli disse, sai amata mia, ti sei appena divorato il cuore del tuo amato. La Dama disse, se le mie labbra, se la mia bocca hanno toccato un cibo così pregiato, d'ora in avanti non toccheranno più nessun altro cibo. E si lasciò morire. All'interno di questa torre. All'interno dei castelli. E allora, ancora oggi, la leggenda narra che questa Dama Bianca faccia le sue passeggiate fin su alla sacra. L'ultima apparizione così racconta. C'è un articolo sulla stampa, ripeto, degli anni 70, dove due spiriti qua, abbracciati, furono visti ai piedi di questa croce. Piacerebbe anche vedere questa Dama Bianca camminare quassù. È dipinta su una delle... Sarebbe anche romantica l'immagine. È dipinta, come tante altre leggende del paese, su molte serrande del paese. Non so se avete fatto caso, se ve l'hanno fatte notare. È anche un po' il simbolo è diventato. Un po' una maschera assieme alla Bellalda. La Bellalda è quella giovinotta che si è lanciata dalla torre che ne parleremo, ne parleremo. Per scampare da violenza certa, diciamo. Ai suoi dati, esatto. Bene, allora, io ti ringrazio. Intanto vi lascio proseguire il vostro percorso. È proprio... Assolutamente. Io ritorno nelle vie più facili e voi adesso invece vi fate tutto il vostro percorso. Io ringrazio voi. Come va la schiena? Fa male al tarera? Eccomi qui in compagnia del simpaticissimo Americo che mi stava già illustrando il museo della pasta di Meliga. Allora, eccoci qui. Partiamo subito con il primo attrezzo, forse il più antico, che serviva per fare il burro. Perfetto. Una vecchia famiglia di Sant'Ambrogio ce l'ha donato e noi siamo ben felici di esporlo. Proseguiamo perché facciamo una zoomata veloce anche perché vogliamo incuriosire i telespettatori. Certo. Qui è una sgranatrice che è già abbastanza moderna che usavano per sgranare il grano turco. Poi andiamo avanti. No, fine dell'Ottocento vedo. Abbiamo una macchinetta che è piccolissima e la spingevano così con la mano come si fa ancora adesso o si spinge con la pancia come quella che è un'altra donazione fatta da un altro Sant'Ambrogese. Che serviva per sgranare la pannocchia praticamente. No, no, no. Questo serve per fare proprio la pasta di Meliga. Ah, ok. Per lavorare già la passa. Qui esce, dopo averla impastata, esce questo serpentello con tutte le sue punte e la madame la piega e la mette nella teglia da mettere in forno. Queste sono tutte macchine, cose che ho fatto io. Ah, perché tu sei anche un inventore. Sì, io sono un meccanico. Sei l'Archimede di Sant'Ambrogio praticamente. Ecco, mi diletto molto e allora ho un po', la stella è comune, tutte uguali, quelle che vedrete, perché è una misura sola. Può avere solo quella misura perché la pasta di Meliga deve avere un peso suo, non deve superare i 17 grammi. Deve essere leggera. Perché i vecchi panettieri, mi hanno detto quelli che li conoscevano, che non le pesavano, ne prendevano sei e in sei ce ne stava un etto. Ah, ecco, e quindi sapevano già. Dovevano pesare dai 14 ai 17 grammi. Senza necessità di pesare, quindi era un lavoro fatto in modo manuale. Ma tu che sei un inventore di questa strumentazione per creare le paste di Meliga, sei anche capace a farle o no? Certo. Ah, le fai? Ok. Posso far vedere, allora, una delle mie creature più belle è questa, perché ne fa una sola, fa una pasta di Meliga di 17 grammi. Io l'ho montata girando. Quelle sono le paste di Meliga che faccio io. Ah, queste qui, mamma mia, sei un diavolo tentatore a mettermele lì così in esposizione. Vedremo nello scritto, in molti scritti, c'è scritto del nostro vino di Sant'Ambrogio. Il nostro vecchio vino. Abbiamo ancora una vigna nella zona dei Bertassi. Storica, quindi. Che si chiama Carcairum, ci sono uno o due vigne, signori che lo fanno ancora, è un vino... Ma ancora attiva, quindi. Ma di sei gradi. È un vinello, da fine passo. Non si può neanche chiamare vino. È un vino d'uva, ma, ecco. E si chiama Carcairum. Io ho la fortuna di avere una bottiglia del 2000 che tengo lì. Vedo, bella impolverata come si usa per le bottiglie importanti. Niente, abbiamo avuto l'onore a Sant'Ambrogio, nei tempi dei tempi, che sia passato Cavour, che lui era un amante della pasta di Melica. E si vede, perché era anche bello rotondino, quindi abbiamo capito che era un estimatore delle paste dolci e del buon vino. Il bicchiere del vinchinato. Ecco, qui andiamo sempre sulla modernizzazione. Quella, invece, è una sgranatrice che abbiamo recuperato in una cascina, mio fratello, e io l'ho presa come l'ho trovata nel granaio, l'ho messa. È un cimeglio da non dimenticare. È un cimeglio. Ascolta, ma perché questa terra è la terra delle paste di Melica? Perché il 21 di dicembre, nella festa di San Giovanni Vincenzo, come avrete visto in chiesa, era costume fare le paste di Melica. E si mangiava solo in quel determinato periodo. E poi basta. Probabilmente anche le coltivazioni e i campi qui sono favorevoli a questa cultura. Perché il grano turco qui in Piemonte è arrivato all'incirca nel 1700-1008. Non sappiamo esattamente le prime pannocchie. Tant'è vero che c'è uno scritto che l'ha stampato, dove io ho inventato una storia come hanno fatto le paste di Melica. D'altronde, 35 anni fa, quando ho incominciato, poco sapevo, pur conoscendo tanta gente. Ora sei diventato bravissimo in materia. Adesso chiudi gli occhi, chiudi gli occhi, chiudili, chiudili. Non guardare, non vedere, non vedere, non vedere. Simone, ciao. Sei pronto a farci vedere una ricetta, a parlarci di un piatto tipico che vengono a mangiare qui da voi? Certamente. Che sarebbe quale? Allora, oggi prepariamo il vitello tonnato in chiave un po' rivisitata. O meglio, ci sarà una parte cruda e una parte cotta. Carne ne abbiamo, non preoccupatevi perché ce n'è una serie. Possiamo mangiare almeno in 20 persone. Anche di più. Anche di più. E come per magia, il girello è pronto e cotto per tutti voi e non resta che impiattare. Allora, guarda, ti metto al lavoro direttamente. Ti lascio andare lì al tuo piano, tranquillo. Allora, andiamo a vedere insieme la preparazione del vitello tonnato. Allora, detto così, il vitello tonnato sappiamo essere uno dei piatti principi della cucina piemontese. Già un po' visto e rivisto. Ma qui l'hanno rivisitato. Ovvero, lo preparano in un modo del tutto particolare. La carne ovviamente ha una cottura di quanto? Più o meno la vedo abbastanza rosa. Poco in realtà, sui 12 minuti circa. In forno. E quando la fai cuocere metti anche delle verdure. Che cosa unisci nella cottura della carne? Facciamo una cottura, diciamo, alla maniera vecchia. O meglio, cotta come un arrosto con delle verdure che poi vengono frullate per creare la salsa. Ah, quindi utilizzerai queste verdure della cottura della carne all'interno della salsa, che quindi non è una maionese. Non è una maionese perché le uova sono cotte. In realtà noi usiamo solamente l'albume cotto dell'uovo, mentre il tuorlo verrà poi spolverato sopra per decorare. Allora, a vederla così mi ricorda un po' il colore della senape. Beh, questo è dato dal fondo di cottura della carne, i succhi, quando caramellano. Ok, allora, quindi so che non vorrai svelare proprio al 100% quello che c'è all'interno di questa, che non chiamiamo maionese, ma chiamiamo salsa. È una salsa similtonnata. Non tonnata. Non tonnata perché non c'è neanche il tonno. È l'uomo del mistero lui, perché allora una cosa non c'è e un'altra non c'è e un'altra la aggiungiamo dopo, quindi diventa complesso anche capire la ricetta. Bravo, l'hai fatto apposta per noi, sapevi che poi volevamo capire i segreti del tuo mestiere. Per non svelarli. Allora, prego, procedi pure. Intanto mi piace già l'idea di impiattarlo in questo piatto allungato, molto molto carino. Allora, questa salsa che dicevamo avere come base, verdura del fondo cottura della carame. Esattamente, qualcosina dei succhi di cottura e l'albume dell'uovo sodo, capperi e acciughe come è classico mettere nella salsa. Viene frullato tutto quanto insieme, poi messo a riposo per un po' nel frigorifero. No, in realtà si può usare anche subito, basta che le verdure si sono fatte raffreddare prima. Perché è abbastanza consistente come salsa, non resta troppo morbida. Questo è un po' per l'uovo che aiuta a legare e un po' per le verdure che sono abbastanza asciutte. Senti, ma adesso sono curiosa, quei pezzettini di cosa sono pancetta? Questo è tonno, tonno cotto in olio cottura a bassa temperatura, così che rimanga abbastanza rosa. Quindi utilizzi un filetto di tonno? Sì, esatto, un trancio di tonno e poi condito con un goccio di salsa di soia, olio e sale. Ah, salsa di soia, perché dà un gusto... Un po' più orientale. Ho capito, quindi questo lo andrai a mettere dove? Al di sopra del piatto, al di sopra della salsa. Questa è veramente una chicca, perché non avevo ancora mai visto il vitello tonnato piemontese servito in questo modo. Quindi il tonno, anziché frullarlo all'interno della salsa, lo andiamo a sovrapporre alla cremina che hai messo precedentemente sulla carne. Che bello anche da vedere, coreografico. Ormai l'occhio, esatto, vuol mangiare prima della bocca, vero? C'è sempre necessità di creare i piatti più belli. E poi concludiamo con... Questo è il tuorlo dell'uovo sodo, sbriciolato, passato al setaccio. Che quindi non l'hai messo prima all'interno della salsa perché ci giochi adesso. Esatto, così dà un po' di colore. Sembra quasi un fiore. Sarà un fiore per la dama bianca, si vede che questa sera sarà cena anche lei e quindi hai creato... Speriamo di noi, con la... Ecco, e questo è il piatto praticamente, il risultato finale. Dov'è che ti sei ideato la ricetta di questa salsa? Cioè provando per tentativi e per errori, per far qualcosa di diverso? La salsa originale, diciamo quella con l'uovo e il tonno, è proprio la ricetta classica di queste zone, cotto appunto come un arrosto, con le sue verdure frullate. Modificato un pochino in base anche ai miei gusti e alle conoscenze acquisite negli anni. Bene, allora io ti ringrazio. Guardate che meraviglia. Facciamolo vedere a favore di camera. Ecco, bravo. Dalle tue mani sapienti, ottime qui in cucina. E noi passiamo ad altro. Andiamo insieme a voi a vedere e curiosare in altre cucine. Grazie mille. Grazie a voi. Ed eccomi qui in compagnia di Roberta. Ciao, grazie per averci aperto le porte di un altro monumento importante di questa città, ovvero la torre, la torre comunale. Dietro di noi, proprio qui in questa parete imponente, vediamo dei dipinti particolari che narrano sicuramente una storia speciale. Ora sarai tu la voce di questa storia. Ok, allora alle nostre spalle troviamo un affresco che si sviluppa su tutta la parete ovest della torre comunale. La torre comunale è un grande edificio a pianta quadrata, è stato ristrutturato negli anni, nel 1995. Dovete sapere che la torre doveva essere demolita, ma la soprintendenza ha preferito visionarla all'interno della struttura e ha notato che erano presenti, sono rimasti praticamente al di sotto dell'intonaco, dei lacerti di pittura. La torre è stata costruita intorno alla prima metà del 1200. La cosa che stupisce è la presenza di affreschi su tutte e quattro le pareti. Rimane molto poco sulle altre, ma su questa abbiamo lo sviluppo dell'affresco su tutti i tre piani della torre. L'affresco è molto interessante da un punto di vista narrativo. Infatti si divide su tre registri. Nel registro inferiore abbiamo una decorazione in stile geometrico che ricorda un pochino quella della casa dei canonici di Susa. A separarlo dal registro successivo abbiamo una greca e nel registro centrale abbiamo una teoria di animali e di uomini incedenti tutti verso sinistra. Nel registro superiore invece abbiamo la rappresentazione di sette archi. Non sono tutti conservati, ma la ritmicità ci fa supporre appunto che fossero sette. E al di sotto degli archi si trovano delle donne. Si definisce questo come l'affresco delle dame danzanti perché si tengono per mano e sembrano appunto ballare, fare una danza. Dal mio punto di vista questo affresco narra un evento storico realmente accaduto ma le altre interpretazioni sono legate al ciclo dei vizi e delle virtù. L'unico dettaglio è che nel ciclo dei vizi e delle virtù nella teoria degli animali incedenti non sono presenti figure umane e qui invece se ne distinguono almeno tre. L'interesse per questo affresco, oltre per il ciclo narrativo che ritrae, è legato al fatto che abbiamo una camera pinta all'interno di un edificio datato alla prima metà del 1200. Questo è molto particolare perché non esistono, non si sono conservati, non è necessariamente detto che non esistessero, degli affreschi di tipo di stampo profano di quell'epoca, infatti sono tutti successivi, soprattutto affreschi che ritraggono donne danzanti. È probabile che in altre strutture non si siano conservati come qui da voi. Sì, diciamo che l'elemento interessante è proprio quello, cioè il fatto che all'interno delle chiese gli interventi sono stati inferiori rispetto a quelli che potevano essere gli edifici pubblici. Qui probabilmente c'era o il broletto oppure da fonti storiche e documenti che ci sono pervenuti poteva essere un edificio adibito a funzioni giuridiche, legislative o amministrative. Non abbiamo la certezza di quale esercizio fosse praticato qui all'interno della torre. Tuttavia la presenza dell'affresco e dei lacerti di pittura all'interno della torre sulle quattro pareti suggerisce che fosse un edificio di grande importanza e rilevanza. L'unica certezza è che ad oggi voi avete potuto mantenere questo edificio, questa struttura e averne anche vanto perché sicuramente nella zona non è così facile reperire altri monumenti storici di questo tipo. Facciamo però un salto fuori da questa struttura. Arrivando qui a Sant'Ambrogio e anche leggendo alcune curiosità legate a questo paese si scopre essere un po' il paese delle fontane. Perché? Allora, questo dato è molto interessante. Innanzitutto le fontane sono settecentesche e si parla di due fontane quasi gemelle che si trovano lungo l'antica via di Francia, l'attuale via Umberto I. Nella fontana del Pasquet sono scolpite nella parte frontale delle stelle e lateralmente invece due fiori, due petali di fiori. Questi fiori sembrano essere ritratti anche nell'affresco all'incrocio delle diagonali. Oggi non sono più visibili ad occhio nudo, ma alle analisi era GX è possibile ritrovare la sagoma. Sulla fontana della Rusta, che invece si trova proprio prospicente la torre, sono presenti delle stelle. La presenza delle stelle è ricorrente nel borgo di Sant'Ambrogio, ne è rappresentata una molto grande sul Sagrato della Chiesa e potrebbe far riferimento a una leggenda che narra dell'autoconsacrazione della Sacra per volere divino. Si narra infatti, la leggenda racconta, che il vescovo di Torino, Gezzone, si fosse recato a Sant'Ambrogio per poi accedere alla Sacra e consacrarla. Ma durante la notte una grande stella o un fuoco si videro brillare sulla Sacra e questo segno fu interpretato come volere divino di autoconsacrazione della Sacra. E infatti la Sacra di San Michele è l'unico monastero benedettino dedicato appunto a San Michele a non essere stato consacrato da un'autorità ecclesiastica. Mamma mia, insomma, quanti misteri che alleggiano su questo paese, veramente. Lo scopriremo ancora nel corso di questa settimana. Io nel frattempo ti ringrazio per la tua disponibilità e do l'appuntamento ai nostri telespettatori. Domani alle 14.30 ancora da Sant'Ambrogio di Torino, ancora con voi in musica e tradizioni per scoprirne sempre di più di questo territorio. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti voi. Ciao. Grazie mille.